Abbiamo dato una visione di insieme sempre più ampia dal punto di vista della formazione di quella classica, delle scuole, degli istituti superiori, delle università, il contributo che può dare un'imprenditoria illuminata, filantropica, quella che va oltre la cultura sociale di impresa. Qui siamo al passo successivo. Assessore Leporelle, do il ruolo di quella che viene chiamata la sabbia nell'ingranaggio perché le istituzioni normalmente hanno quel limite lì o perlomeno nella percezione. Noi abbiamo parlato bene di quello che a Bologna si è riusciti a fare ma probabilmente si potrebbe fare di più e probabilmente altrove non si è arrivati neanche a questo livello. Dopo sentiremo quelle che sono le criticità ma sicuramente la burocrazia e gli ingranaggi istituzionali spesso sono la difficoltà più grande che ci si trova ad affrontare. Ma sia da parte di chi ha progetti di questo tipo? Lei diceva loro ci hanno messo solo due anni ma sono stati fortunati? Siete stati bravi? C'erano le condizioni? E poi anche da tutti gli altri punti di vista. Loro hanno impiegato due anni perché abbiamo fatto delle scelte insieme, nel senso che avevamo delle opportunità, abbiamo fatto delle valutazioni, abbiamo trovato un immobile, loro hanno fatto un investimento e noi abbiamo gestito la parte urbanistica. A Bologna devo dire la collaborazione fra il pubblico e il privato funziona, è ovvio che dobbiamo sempre paragonare la nostra realtà con altre, bisogna avere delle pietre di paragone. dal punto di vista dell'attrattività degli investimenti Bologna sta andando bene. C'è una parte della città che investe, che riesce a esportare in tutto il mondo oltre l'80% del proprio fatturato. Molti imprenditori appunto si stanno ponendo il tema della formazione e dell'assunzione di talenti che a volte non trovano sul nostro territorio e devono prendere da fuori. Quindi significa che c'è un'economia che sta funzionando e che cerca una collaborazione. Abbiamo sempre avuto un'idea di comunità qua molto importante. Non è un caso che prima Golinelli parlava dell'importanza del profitto. Il nostro è un territorio che ha delle imprese sia nel comparto manifatturiero sia nel mondo cooperativo che a volte superano i 100 anni. Io sono stato un mese fa al compleanno della Sassib, che è una società che ha cambiato proprietà diverse volte, adesso nel gruppo Coesia, festeggiava i 100 anni. C'erano tanti dipendenti con le loro famiglie. Il fatto che un'impresa superi i 100 anni significa che chi l'ha gestita ha deciso di reinvestire quello che veniva guadagnato sulla crescita e la sostenibilità dell'impresa, sui lavoratori, sul suo futuro. Non succede solo al mondo cooperativo dove è più facile vedere questo tipo di sviluppo, ma anche per le imprese manifatturiere nel nostro territorio. E significa che si è immersi in un ambiente in cui per la formazione, per il welfare, in generale per la qualità della vita, per le relazioni internazionali che si hanno, si riesce a lavorare in questo modo. Perché se un imprenditore deve usare il proprio profitto per risolvere dei problemi che sono causati dal territorio, è ovvio che quel profitto si consuma e non riesce ad essere investimento sulla sostenibilità del futuro. Se invece l'imprenditore è aiutato dal territorio, può dedicare il suo profitto a far crescere l'impresa. Il fatto di avere un numero così alto di imprese longeve, diversificate in quello che fanno, qualifica il nostro territorio e lo descrive anche. Oggi credo che Bologna e l'Emilia Romagna siano i due territori, nel piccolo e nel grande, più interessanti in Italia dal punto di vista dell'attrattività degli investimenti. Non è un caso che qui abbiamo tutti i principali fondi di investimento immobiliare del governo, i principali fondi di investimento privati all'interno di Fabrica Italiana Contadina, il progetto che nascerà l'anno prossimo, che sia arrivato a Philip Morris, che siano nati il Mastel, l'Officio. Quindi c'è fiducia dal punto di vista dell'impresa e degli investimenti e credo che sia merito di tutta la comunità e anche di un'idea di pubblica amministrazione che non si ferma a gestire o mettere i timbi, ma che assuma un atteggiamento intraprendente da imprenditore, imprenditoriale. Questo credo sia molto importante. Direttore, l'obiettivo è esportare tutto questo e lo raccontavate anche nella maratona che citiamo spesso, che è il punto di partenza di questa serata di approfondimento, è quello proprio di crescere e avere interlocutori altrettanto ricettivi per non avere più un'idea di area vasta qui, ma un'idea che venga recepita e possa andare, come dicevamo prima, a creare un territorio. Abbiamo detto una Silicon Valley, ma la Silicon Valley è chi? Noi qui siamo siamo altro. Lei teme che la burocrazia sarà un problema, lei ha già ravvisato un'attenzione particolare, andrete a braccetto così l'unione farà la forza? Ma noi già andiamo a braccetto da alcuni anni e quindi continueremo a farlo con entusiasmo, senz'altro. Io sono ottimista, mi trovo sempre più spesso e io osservo i fatti, i fatti e sia a livello nazionale che regionale che locale ci sono dei fatti oggettivi che ci fanno ben sperare, si sposta l'attenzione dal concetto di legge al concetto di policy, si inizia a creare degli investimenti che vanno in direzioni congiunte, comuni, condivise. Faccio degli esempi concreti, piano nazionale della scuola digitale, presentato dal governo, dal ministero dell'istituzione e presente anche il ministero del sviluppo economico e anche rappresentante della presidenza del consiglio. Un miliardo e tre sulle scuole per i prossimi anni, ma con il digitale che è una scusa perché se uno va a leggere il piano nazionale della scuola digitale si parla di impenditorialità, di impenditività, si parla di infrastrutture, si parla di formazione degli insegnanti, si parla di alfabetizzazione digitale del paese. Questo è un esempio, già GIA sui giornali si vede, ho sentito anche il ministro, si parla di manifattura 4.0, a livello regionale sta lavorando all'agenda digitale, l'agenda digitale del Comune di Bologna ce l'ha da tempo e sta implementando sempre di più. Il Comune di Bologna, primo forse in questa maniera si è dato un regolamento sui beni comuni. Allora chi dice che ci sono lacci e laccioli va bene, poi il bicchiere è mezzo pieno, mezzo vuoto. Noi guardiamo con ottimismo perché è uno sforzo congiunto nella direzione, io oggettivamente lo vedo e la Fondazione Golinelli vuole dare il suo contributo. Allora vediamo le start up, boom di occupazione, occasioni di lavoro nelle giovani società un incremento dell'80%, 24 mila posti. Il ministro per lo sviluppo economico Federica Guidi ha parlato di un'accelerazione spasmodica nell'innovazione. Tra l'altro dicevamo la Lombardia è la regione più popolosa per presenza di giovani innovativi, segue l'Emilia Romagna, sono 575. L'obiettivo è sorpassarli, Golinelli poi mi spiegherà la sua idea. E tra le province le più dinamiche, la prima è Milano, Bologna è quarta, presenza anche di donne e di immigrati. All'interno della nostra, ormai nostra maratona di 60 ore all'opificio c'erano molti start up, cioè giovani imprenditori che hanno creato un'idea che ha avuto una piccola fortuna, almeno è iniziata. Sentiamo che cosa ci hanno detto poi lo commentiamo insieme. Gilberto Cavallina ha storie che iniziano tra ragazzi di buona volontà con tanta creatività e poi diventano esperienze di successo. Ci racconti la tua? Sì, noi eravamo tre amici con un'idea, cambiare la pubblica amministrazione e il rapporto tra cittadini e comuni. Ad oggi abbiamo un'azienda, una start up che vive da quattro anni, che va bene, abbiamo 60 comuni in tutta Italia e con cui i cittadini tramite la nostra app possono segnalare i problemi al proprio comune e sul nostro gestionale gli uffici del comune ricevono la segnalazione, la gestiscono, coordinano i lavori, aggiornano il cittadino mano a mano fino alla risoluzione. L'avventura è iniziata circa nel 2013 quando ero coinquilino con uno degli attuali soci fondatori e lui stava completando giurisprudenza, io informatica e ci interrogavamo sui punti d'incontro di quelle due discipline e quindi ragionavamo la sera dopo le lezioni, dopo il lavoro, perché alcuni di noi già lavoravano a suo tempo e nacque l'idea su numerosi brainstorming serali. Chi vi ha aiutato e chi vi ha ostacolato? Aiutati, aiutato dalla famiglia sicuramente, ci hanno permesso nei primi momenti un po' duri di sostenerci, ostacolato direi nessuno. Gli ostacoli fanno parte del gioco e quindi quelli si prendono con filosofia e si cercano di risolvere, quindi direi gli ostacoli ci sono di per sé sempre in queste attività imprenditoriali, direi che invece piuttosto abbiamo avuto molti soggetti che ci hanno supportato. Vi considerate ancora una start up o degli imprenditori? Ci consideriamo start up perché è un bel termine per intendere lo spirito con cui facciamo le cose, c'è molta sperimentazione, c'è molta apertura verso il nuovo, verso quello che potrebbe essere e innovatori più che imprenditori, cerchiamo di cambiare le cose. Ma diciamo è divertente, noi utilizziamo il termine start up quando parliamo in contesti giovani, invece ci definiamo una società quando magari ci rapportiamo con i nostri clienti. Parliamo di soldi, come vanno i vostri bilanci? Va benino, quest'anno siamo contenti e ovviamente difficile perché ci siamo autofinanziati, quindi non abbiamo avuto aiuti esterni, ci manteniamo e cresciamo con i ricavi che facciamo con la nostra attività, quindi guadagniamo solo se i comuni sono contenti, ad oggi sempre i più comuni sono contenti. Gli attori coinvolti in questa avventura quanti sono e quanti anni avete? Sì, noi siamo in cinque soci fondatori, il più giovane ha 22 anni e il più vecchio sono io che ne ha 26 e abbiamo da poco un dipendente e alcuni altri collaboratori. E a chi definisce i giovani della tua età, bamboccioni, privi di motivazioni, net, coloro che non hanno voglia di futuro, cosa rispondi? Dovrebbero venire un po' più spesso a questi eventi, a parlare con gente che si sta mettendo in gioco, non tutti quelli che ci provano ci riescono, ma se lo spirito è quello giusto e la voglia di faticare quella necessaria, i risultati si ottengono anche in Italia. In una parola, il futuro è? Il futuro secondo me è investire sui giovani che si approcciano a questo mondo e di sicuro la Fondazione Golinelli che ci ospita oggi, per esempio quello stato a weekend, sta facendo in modo molto importante e due, secondo me un'altra cosa che andrebbe fatta è fare i reti tra le strutture innovative del territorio che possa alimentare questa crescita. Marino Golinelli, l'Italia è campione nella nascita di nuove imprese nel nostro DNA, poi naturalmente i tassi di mortalità delle start-up dicono che non tutte hanno le caratteristiche per sopravvivere. In questi tre giorni che stiamo raccontando e che ci danno lo spunto, se ne sono visti tanti di giovani con iniziative e talenti, lei che giudizio ha complessivamente? C'era più utopia o c'era anche qualcosa di vero? Dunque, vedo il vaso mezzo pieno e mezzo vuoto. Allora, pieno, indubbiamente ci sono degli esempi, li avete visti, di giovani che sono impegnati in senso positivo, hanno una visione anche realistica degli impegni anche che occorre mettere per realizzare le loro idee. La cosa negativa è quando leggo e conosco i dati di come va il sistema delle start-up in Italia. Le statistiche ci dicono che il nostro paese è uno dei punti più bassi dello sviluppo delle start-up. Allora, a queste statistiche ognuno di noi può porsi un problema. Ma perché? Non perché mancano le leggi, perché le leggi, devo dire che in questi due anni, da quando c'era il ministro Passari, poi anche recentemente, eccetera, la possibilità di fare delle SGR, come si dice, per il lancio delle start-up è una cosa a livello europeo, quindi che dà la possibilità di fare questo. Però degli imprenditori, quelli che sono, quelli che dovrebbero rischiare per finanziare le start-up, sono molto pochi. In Italia non c'è una classe imprenditoriale che sia a livello di sentire la responsabilità. Quindi non è un problema di idee o di capacità, ma insomma, torniamo al tema più concreto. No, perché noi siamo disposti, disponibili, domani partendo dal nostro trust, Eurek, eccetera, di creare la base, eccetera. Ci sono delle iniziative positive in Italia, per raccolgere dei fondi, parliamo da Lich Pharma, no, il signor Donadon, ci sono dei signori, ciprodottori, dettoli, no, che sta facendo un accordo qui a Bologna con il giardino, con la scuola di Valeriani, con gli imprenditori, l'Uni Industria, queste cose qui, però se noi vediamo complessivamente queste start-up che sono basate molto senza un supporto tecnico preciso. Scusate, io dico questo perché nella fondazione un membro del consiglio di amministrazione è uno degli esperti di questo settore che è il dottor De Biasi. Certo, tra l'altro fondatore d'Italia Start-up. Posso dire esattamente con conoscenza, scusate, delle cose, però mancano il supporto finanziario di chi ci crede e chi vuole investire dei rischi. Quindi questa è la parte per me negativa che dovremmo superare. E allora ci fermiamo e poi andiamo alle nostre conclusioni.